Adesso, quando abbiamo capito come si tiene l'arco, possiamo provare e fare gli esercizi con il violino. Con la stessa leggerezza che abbiamo provato a fare con la mano sinistra nella prima lezione, facciamo la stessa cosa con la seconda lezione con la mano destra. Lo alziamo il braccio all'alto e poggiamo sulla corda sol, nella posizione dove finisce la fascia d'argento. Dobbiamo sentire che noi non teniamo l'arco, solo appoggiamo. E il pollice che rimane unico e piano piano togliamo tutte le dita e cerchiamo di sentire solo il pollice che sta riposando tenendo l'arco. Questo cerchiamo di ripetere con la corda re, con la corda la e con la corda ni. Stessa cosa facciamo in ogni punto dell'arco. Quindi teniamo l'arco solo con il pollice. Il secondo esercizio stessa cosa, facciamo stessa cosa, solo che lasciamo il mignolo e proviamo di alzare l'arco. Facciamo nella metà. Alzare e appoggiare di nuovo sulla corda. Alzare e appoggiare di nuovo. Aggiungendo piano piano, quando avete la padronanza della mano con l'arco, provare a fare il movimento dell'arco in giù e appoggiando di nuovo l'arco sulla corda. Quindi avviamo l'arco sulla corda, lo alziamo solo grazie al mignolo e adesso appoggiamo.